Musica Ciao a tutti signori, benvenuti in questo nuovo video, io sono Feint Oggi, come avete letto dal titolo, schioma da barba in faccia alla mia ragazza Alessia era in bagno e io ho usato la scusa di portare nel bagno sotto la schioma da barba perché io uso quello E poi quando è uscita dal bagno ho paffi in faccia e poi me ne date di santa ragione Però smettiamo di chiacchierare e vi lascio subito al video, pace Ok, io mi ho messo la schioma da barba E Manu appena esce, paffi in faccia Ok, io mi ho messo la schioma da barba No, aspetta che sono io Amor, sei un po' bianca in faccia Oh mio Dio Perché muovo, fatti vedere, guarda, anche i capelli Ahahahah 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 Cioè, guarda, guarda Nooo Il telefono, cazzo Ma dove mi hai sporcao? Nooo La maglia della barba Nooo I capelli, il mio ciuffo Il mio ciuffo Il mio telefono Guarda, guarda Ora sono tutto bianco come te Che merda, devo farmi una doccia E anche io I capelli Ecco, eri sporca tenendo il pacchetto No, aiuto Quelli bianchi, amore Ti sei ingrazzata? No E allora Cioè, poi ho finito lo stesso schermo da barba E non è che ti ci sono scheriti i capelli Che due coglioni Non ti sto registrando Faffanculo Non sto registrando assolutamente Gira il telefono Perché dovrei girare il telefono? Aia, che male Ah, mi mette proprio la scarpa No, no, no Amore, no, amore Amore, amore, ah, che male la schiena, no Basta Aia No Ah, 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 ah Ah, ah, ah Che male, porco Ma se io fossi questa No, no, no Quella no Quella no Perché fa male? No, basta Basta, no Basta, cazzo No Non la tiri, proprio Signori Mi ha amenato Ma forte Forte Infatti Tutto rosso dalle scarpe Che mi ha fatto male Che due coglioni però Il video Dei 20 like È questo Anche se adesso siamo a 81 E mille Quante le vamo? 1639 visualizzazioni Tanta roba Per merito suo Quindi Cosa devo dire? Niente No, togli la mano Togli la mano Faccia le mani Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lei si è imbiancata tutta E Ragazzi Ci becchiamo al prossimo video Adesso non metto più I 20 like E roba così Perché Se no AIA AIA Se no Non so mai quando fare il video Quindi ci becchiamo alla prossima Pace No Mai